Buongiorno bambini, buongiorno, come state? Tutto bene? Avete voglia di una storia di mostri? Mostri sempre più sottosopra. Caro giovane lettore, sei pronto a questo viaggio? Abbandona ogni timore e fai scorta di coraggio. Preparando il tuo bagaglio e iniziando la lettura, tu ti metti a repentaglio e intraprendi un'avventura. Tanti oggetti assai usuali, al di là di ogni sospetto, nascondono mostre eccezionali, rivoltanti nell'aspetto. Sono dieci e sono nascosti tra le pagine rotanti. Vai e indaga in tutti i posti. Per stanarli tutti quanti. Ho riempito il mio cestino di ciliegie succulente. Ma sta attento, c'è qua sotto un orango prepotente. Quando piove c'è bisogno di un bel paio di stivali. Niente affatto, qui c'è un lupo e i suoi morsi sono fatali. Ci sono tanti fiori viola nel mio splendido giardino. Ma c'è anche un gran vampiro. Fa attenzione al suo canino. Il gran sole luminoso ogni nube fa sparire. Ma sta attento, qui c'è un drago che ti vuole incenerire. I colori dell'autunno. Che fantastico spettacolo. Ma attenzione a questo polpo. Ti cattura col tentacolo. Il sottomarino sfreccia negli abissi tra le onde. Ma perbacco c'è anche un robot che qua sotto si nasconde. Il mio amico pesce rosso nuota quieto nell'acquario. Ma attenzione c'è un alieno dallo sguardo sanguinario. Non esiste niente al mondo di più buono del gelato. Ma sta attento, c'è una strega che l'ha tutto divorato. Un calzino rosa strisce. Ma dove sarà suo fratello? Attenzione al millepiedi che ti azzanna sul più bello. Bolle e sbuffi sul fornello. Un caldissimo stufato. Ma sta attento che là dietro c'è uno zombie e l'hai svegliato. Complimenti, li hai trovati tutti i mostri capovolti. Uno a uno li hai scovati e i misteri sono risolti. Ma accidenti che trambusto sembrerebbe che da capo si nascondono con gusto in un grande rompicapo. Dieci mostri un'altra volta sono qui sotto il tuo naso. Se li trovi anche stavolta dopo avrai risolto il caso. Mostri sopra, mostri sotto, all'apparenza a volte inganna. Prima erano dappertutto, ora sono andati a nanna. Ciao bambini, alla prossima!